Per celebrare la giornata internazionale della danza istituita nel 1982 dall'International Dance Council dell'UNESCO, il Comune di Napoli ha organizzato e promosso la performance evento Napoli Silent Dance Zitti Zitti che si ispira al fenomeno dei silent party per proporre un'esperienza a metà tra silent dance e silent concert. All'alba di domenica, anticipando di un giorno la ricorrenza dedicata al coreografo Jean-Georges Novert, padre del balletto moderno, la Rotonda Diez si è popolata di danzatori e coreografi che hanno invitato gli spettatori a immergersi in una danza silenziosa, ascoltando in cuffia la musica suonata in tempo reale dai musicisti o semplicemente a perdersi in un'atmosfera unica assistendo allo spettacolo mentre l'alba si diffonde sul lungomare della città. Un evento nell'evento, insomma, l'ideatrice, regista e coreografa Gabriella Stazio, insieme alla compagnia Movimento Danza, ha coinvolto oltre 20 coreografi e performers della scena italiana della danza contemporanea. La musica e i DJ set sono stati curati da Francesco Giangrande con il supporto tecnico del fonico Alessandro Messina, senza luci artificiali, solo con la luce naturale aspettando l'alba. Tutti zitti a danzare!